Mi chiamo Rita Cilenti, sono stata operata 6 anni fa e sono tornata giù dalla sala operadoria con già la protesi, per cui ho cominciato a parlare quasi subito. Certo ci vuole un po' di allenamento, ma io adesso faccio tutto, vado a fare la spesa, parlo con i miei figli, con i nipoti, con tutto, parlo, faccio il figlio mia madre. Quindi sono tornata più o meno alla vita di prima, con qualche difficoltà, qualche volta, però non mi posso lamentare. Grazie a tutti.